Lo Stato è chiaramente responsabile perché quel ragazzo è morto proprio quando era nelle mani dello Stato, ma sono il capo del potere esecutivo e non commento le sentenze e la partita comunque non è chiusa e i giudici valuteranno. Così il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, commenta in un'intervista a Ballarò la sentenza d'appello per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta a Roma il 22 ottobre 2009 dopo sei giorni di detenzione. E anche la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, Piero Grasso, lancia un appello. Ci sono dei rappresentanti delle istituzioni che sono certamente coinvolti e chi è coinvolto, dice lo stesso Grasso, deve avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità perché lo Stato non può sopportare una violenza impunita di questo tipo. Parole che arrivano a 24 ore dall'incontro tra i familiari del geometra e il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. Non mi fido più di nessuno, io e i miei genitori siamo presi in giro da 5 anni, ha però attaccato nuovamente Ilaria, la sorella di Stefano. Il processo e l'assoluzione hanno dimostrato che avevamo ragione noi, di giustizia si può morire. E ieri in una lettera aperta sull'edizione online dell'Espresso, un poliziotto della questura di Bologna scrive alla famiglia Cucchi chiedendo scusa per questo oltraggio infinito, per questa deriva che non può rappresentare la totalità degli appartenenti alle forze di polizia.